Un po' dimenticata questa zona Piazza Zucchi? Poco no, ma molto dimenticata. Quali sono i problemi sporcizia? Qui sempre su Dio. Degrado, sporcizia, ma soprattutto abbandono ed incuria. Continuano ad essere queste le problematiche di Piazza Zucchi, ma più in generale della zona Saione. I commercianti della zona, come i residenti, continuano a chiedere all'amministrazione una maggiore attenzione per questa zona, che continua ad essere martoriata da bivacchi continui di giorno e di notte e da tantissimi segni di inciviltà. Come vedete c'è molta sporcizia, anche lì accanto dove c'è tutto il marciapiede c'è l'erba incurata, cioè manca dei controlli anche. Noi anche qui dietro ai nostri garage abbiamo trovato le siringhe, per cui è una cosa non bella, potrebbe essere una bellissima zona, come è sempre stata. Tanto c'è gente che bivacca tutto il giorno nella piazza, bevono, fanno i propri bisogni in mezzo a bidogna, ce l'ho aperto, eccetera. In curante ci sono bambini, donne, eccetera. Basterebbe secondo me un po' più di controllo. Anche ogni tanto una pattuglia che si fermi, facciano una passeggiata, come detrarente, proprio per cercare di cavare questa cosa, perché questa è la zona. Era una bellissima zona prima, tuttora è bella, però se si riesce a cavare un po' di questa gente che tutto il giorno sta lì, poi è piena di bidoni da tutte le parti. Purtroppo l'ignoranza della gente non è che ha razza o provenienza. Buttano in terra, c'è bidoni pieni, purtroppo anche spazzini qualche volta lattano. Io ho pubblicato delle foto su Facebook, giovedì scorso, sabato mattina ce n'era due a spazzare. E la cosa non è bella, insomma. Mi baccano, quindi tutto quello che gli resta lo buttano in terra, anche se ci sono dei porta, quelle uno, due e tre sono qua, no? E quindi tutte le mattine io passo di qui e trovo la roba in terra. Meno male ci sono i nostri operatori ecologici.